La mamma si è ammalata ad alzheimer circa due anni fa Ma mi sono accorta che quando ha cominciato a nascondere le cose Che poi perdeva e diceva di aver perso e invece poi le ritrovavo Non mi rendevo neanche conto di quello che stava succedendo Perché pensavo fosse o una finzione o un modo suo di atteggiarsi Salve, buonasera, sono Francesca, piacere Io ho un marito che ormai sono cinque anni Iniziò a perdere l'orientamento e non riusciva a ritrovare la strada giusta per tornare a casa Quello che vorremmo è che non succedesse Niente, cioè che le persone che partecipano vengano qui, prendono un caffè, fanno due chiacchiere Si divertono giocando a carte, riconoscendosi perché si sono incontrate la volta prima O cantando qualcosa o raccontando qualcosa della loro esperienza Poi di fatto invece e spontaneamente spesso succedono invece moltissime cose La malattia d'Alzheimer può durare anche 15-20 anni, non è una malattia debilitante del fisico Specialmente per i primi 8-10 anni Quello che succede è che queste persone piano piano perdono capacità cognitive Ma per tanti anni continuano a mantenere capacità relazionali e a mantenere capacità emotive Quello che cerchiamo di fare è di creare un ambiente dove queste capacità relazionali possono continuare a svilupparsi, a mantenersi E direi anche e soprattutto per aiutare i familiari di queste persone I familiari non se ne rendono conto Quando si rendono conto non accettano questa situazione così drammatica Perché è una malattia purtroppo suddola che arriva quando meno uno se l'aspetta senza nessun motivo, non si preannunzia Ora sono sola con lui I figli sono come assenti perché lavorano giustamente Se io anche devo cercare mio figlio non so dov'è Ma non solo non mi danno una mano Quello che mi ha addolorato è che si sono lamentati i vicini Difficile per una persona che vede un parente, un marito, un genitore ammalarsi di Alzheimer Difficile è mantenere la lucidità per trasformare la propria relazione in modo che sia funzionale e tra virgolette terapeutica Ne confronti della persona malata Spesso chi si ammala ad Alzheimer è consapevole di quello È il primo a essere consapevole di quello che gli sta succedendo Ma spesso questa persona lo tiene per sé Lo tiene per sé per lunghi periodi in cui cerca addirittura di nascondere le proprie cari e i propri familiari Quando questa cosa invece diventa evidente È spesso il nucleo familiare a tendere a isolarsi A nascondersi rispetto al contesto sociale Questo naturalmente comporta anche una sclerotizzazione delle relazioni interne al contesto sociale Non solo, la società li rifiuta Magli lo dico per l'esperienza Cioè cos'è successo? È successo che quando lo sentono Non è più in grado di manovrare, di gestirsi Per esempio se vuole andare a prendere anche un caffè non è in grado Non parla a telefono perché non sa più telefonare Fa fatica a trovare la chiave giusta per aprire la porta di casa Questa è stata una delle cose che mi ha un po' più allertato Perché inizialmente sforzandosi si riusciva Ora devo insistere, insistere, insistere per trovare la chiave Gran voglia di vita Poi se ti avvicini a qualcuno delle persone Specialmente dei parenti Anche delle persone che stanno sorridendo in questo momento E gli fai qualche domanda Ti descrive una situazione di grande sofferenza Di grande dolore Però è molto allegra correttamente Sì, 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 no Anche perché insomma è sempre stata una donna molto Sono sopportretuosa, sono sopportretuosa Io sono sopportretuosa Mi ha detto a Paola che ti piace comandare Sì, molto E lo dici così, tranquilla Non è nessun senso di colpa per questo No, no, perché è tutto sicuro Sì, che gli voglio bene, gli voglio E la comanda E quindi mi comanda Quindi siccome le vuoi bene, guarda, le puoi comandare Sì, perché no Perché no, perché no E se Paola si ribella, che succede? Nulla Si deve sottomettere Perché la Paola non si ribella Non si ribella la Paola Vabbè, ammetti che un giorno decide D'andà via, d'andà fa E io no Che gli devo dire? Ti è mai capitato di pensare Io scappo? No, però mi è capitato Di dire ora l'ho ucciso C'è un punto di vista Che è il punto di vista Degli educatori Delle persone che sono a contatto Che è la percezione esatta Che ogni giorno queste persone muoiono Che assisti a una sofferenza Di fronte alla quale Non puoi farli aspettare Non puoi stare fermo La sua madre frequenta Questo caffè anziani? No, mia madre è a casa Perché sta Abitualmente sta a casa E ormai fissa a casa Io sono qua perché sono un volontario Della misericordia E accompagno gli anziani In queste uscite E' un mondo strano E' un mondo a sé Che non si riesce a decifrare Quindi quello che riescono A manifestare questi Probabilmente è perché Si riesce a toccare alcuni tasti Loro che hanno delle Delle piccole reazioni Però il loro mondo E' completamente diverso Ecco, non Si riesce a entrarci solo In minima parte E solo se ci si perde Continuamente dietro Avere la pazienza Di starci Di seguirli Per sollecitare Anche una minima reazione Perché mio padre Si è ammalato E poi si è trasformato Attraverso l'Alzheimer Il mio compagno Per un tumore E quindi è sposo Le cause che vivo Così come se fossero Parte di un percorso Se noi lo facciamo Senza la paura Che questo comporta Si fa un viaggio insieme Con chi l'ha già cominciato prima Si sopravvive al dolore Perché si diventa Capace di farne Un'esperienza Nella vita di tutti i giorni Allora mio padre E' qui con me Oggi In Ivo Per esempio Le assomiglia In maniera incredibile Io quello che faccio Per Ivo Oggi Lo facevo per mio padre Noi andiamo Ciao 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 Grazie a tutti Queste persone che non si conoscono e al terzo caffè si siedono accanto e iniziano a raccontarsi, a scambiarsi, questo è stato proprio, per me personalmente è stato uno dei tanti successi d'oggi Vanno via con l'idea di tornare e questo mi sembra già che sia un passo importante, gli ultimi saluti che abbiamo fatto ci hanno proprio detto grazie e torneremo il 28 al prossimo caffè Luigi mi ha detto bello, qui sono tutti amici Mi sembra che ci possano essere le basi del progetto che poi abbiamo sulla lunga cittata Cioè quello che si formi un tessuto di persone fra malati e figli e operatori che in futuro all'aggravamento della malattia possa essere un riferimento, un sostegno per il futuro Oggi mi sembra di aver visto qualcosa che nasce in questo senso Oggi mi sembra di aver visto Oggi mi sembra di aver visto